Nelle urla di dolore della mamma di Stella mentre accompagna il feretro della figlia al termine del rito funebre c'è tutto il dolore senza senso della tragedia che si è portata via questa giovanissima ragazza in quella che si può considerare la strage di Genova durante il funerale che si è tenuto nella chiesa evangelica di Foiano è stata ribadita la motivazione che ha portato alla famiglia a un rito così intimo al riparo da flash telecamere la scelta di non celebrare i funerali di stato insieme alle altre vittime è stata proprio dettata da motivi di riservatezza da voler condividere questo momento di dolore solo con i parenti più stretti e gli amici più cari che sono arrivati anche dalla campagna regione d'origine di questa famiglia da molti anni trapiantata ad Arezzo dove gestisce con successo alcuni ristoranti e mentre Stella ha trovato la morte insieme al fidanzato Carlos l'ultimo saluto invece è separato quello a Carlos sarà celebrato nel funerale che si terrà nella giornata di sabato a Capolona luogo dove da tempo la famiglia originaria del Perù risiedeva insieme al ragazzo una storia d'amore quella di Stella e Carlos iniziata solo alcuni mesi fa ma che prometteva molto bene una morte senza senso durante i giorni che dovevano essere dispensieratezza